L'intervento di Giorgia Meloni, dell'Onorevole Meloni, ha, se c'era bisogno, ancora più dato spinta, ancora più dato forza alla sua candidatura, con concetti che sono sempre stati vostri in questi anni? Sì, Giorgia Meloni oggi ha ribadito come la scelta della mia candidatura sia per portare in Parlamento anche la nostra battaglia in difesa dei nostri ospedali. Noi porteremo in Parlamento i principi del patto di piagge. Il patto di piagge vuole difendere la sanità pubblica da chi la sta smattellando, come sta facendo la giunta Ceriscioli in favore della sanità privata, insieme a Ceriscioli, vari minardi, traversine e compagni. Mentre noi vogliamo una sanità pubblica e una rete ospedaliera spalmata sul territorio, formata da ospedali di base, di primo livello, che fungano da filtro agli ospedali di secondo livello e con le altre specializzazioni come devono essere gli ospedali di Pesaro oppure quelli di Ancona. Ma vogliamo anche una rete dell'emergenza, anch'essa presente su tutto il territorio, perché i cittadini di Serra Sant'Abbondio, di Ostravetero, di Pian di Meleto devono avere lo stesso diritto di accedere al pronto soccorso, così come lo hanno oggi, nello stesso tempo, così come lo hanno oggi i cittadini di Pesaro e di Ancona.